. Lunedì 19 settembre riparte il Grande Fratello Vip7 su Canale 5, in queste ore. Circola un retroscena legato a una delle concorrenti che avrebbe dovuto prendere parte alla nuova edizione. A svelarlo, sui social, è stato Biagio Danelli, ex concorrente della passata stagione delle reality show condotto da Alfonso Signorini. Il quale in queste ore ha infiammato i fan delle reality show con la sua bomba lanciata su Instagram. Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip7 tornerà in onda a partire da lunedì 19 settembre 2022 con la prima puntata trasmessa in diretta su Canale 5. Alfonso Signorini, accompagnato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti, presenterà il cast ufficiale di Vip che si metteranno in gioco nel corso di questa edizione che potrebbe essere la più lunga di sempre. Intanto, però, a far discutere il web è un retroscena lanciato sui social da Biagio Danelli, ex vipone della passata edizione. Sul suo profilo Instagram, Biagio ha pubblicato una story in cui ha svelato che ci sarebbe una concorrente che avrebbe dovuto entrare nella casa del GF Vip7. La quale si sarebbe tirata indietro all'ultimo minuto. Si è ritirata perché, avendo avuto una notte di passione con un calciatore di serie a sposato, sarebbe stato il grande divorzio. Non il GF, ha scritto Biagio nel suo post social. Al momento, però, l'ex geffino della passata edizione non si è sbilanciato più di tanto e non ha fornito ulteriori dettagli sul nome di questa presunta concorrente che avrebbe deciso di non partecipare più al GF Vip dopo la notte di passione con il calciatore ignoto. In attesa di scoprire se emergeranno ulteriori dettagli su questa presunta concorrente che si sarebbe ritirata dal programma prima ancora dell'inizio ufficiale su Canale 5. Ci sono già i nomi dei primi viponi certi che varcheranno la soglia della Porta Rossa nel corso delle prime due puntate di questa settima edizione. Uno di loro è Giovanni Ciacci, il celebre costumista delle celebrità che all'interno della casa del GF Vip porterà la sua esperienza da uomo siero positivo. Spazio anche alle vicende di Pamela Pratiche, dopo lo scandalo e la bufera sul caso Marc Altagirone dopo che in passato venne squalificata dalle reality show. Si rimetterà in gioco in questa settima edizione. Tra i primi concorrenti confermati per il GF Vip 7, spicca anche il nome della cantante Vilma Goic. Grazie per la visione!